Radio Streghetta, l'oroscopo. Segui Rinascente Tell e i servizi che ti offre il tuo oroscopo tutti i giorni, sia su Facebook, Twitter o su 899 90 90 70. Ariete. Attenzione ai particolari, ciò che sembra marginale si rivelerà fondamentale per il buon esito del vostro lavoro. In amore, un riconoscimento inaspettato dei vostri meriti. Toro. Il segreto è collaborare, non importa chi abbia avuto l'idea migliore. Voi la esalterete e aiuterete a realizzarla. In amore si profila un riavvicinamento che potrebbe causare guai. Gemelli. Mantenere una promessa potrebbe risultare molto oneroso, una vittoria è alle porte, ma dovresti fare attenzione a non prendere la partita in maniera troppo personale. Il tempo scorrerà a vostro favore e una gradita sorpresa allieterà la serata. In amore la complicità ritrovata metterà fine a una serie di battipecchi. Cancro. Le scuse ci sono di tutte le misure e di tutti i colori, ma dal costruire una scusa plausibile e credibile a un mutamento in mugia può essere un batter d'occhio. Quindi fate attenzione anche a chi vi sta vicino e vi ascolta, che a quanto pare lo farà, restando appunto molta attenzione a ciò che dite. Leone. Le parole saranno la chiave di volta, un discorso ben orchestrato vi porterà a ricoprire una posizione di vantaggio rispetto ai vostri concordenti e nessuno oserà ribattere a una vostra appassionata osservazione e questo vi metterà in luce di fronte a un superiore. In amore noterete un interesse nuovo. Vergine. Qualcuno potrebbe rischiare di scatenare la vostra ira per futili motivi, per cui farete meglio ad avvisare chi vi sta intorno, minimizzando il rischio della lite e in amore i silenzi parleranno per voi, creando armonia e un pizzico di magia. Bilancia. Agirete nonostante la totale mancanza di voglia e verso un lavoro che solitamente rapido e di routine vi apparirà molto pesante e terribilmente noioso. Dovrete quindi tenere duro almeno fino al pomeriggio, dato che vi verranno proposti degli interessanti passatempo. Scorpione. Spesucce e relax che farete assolutamente per conto vostro e assaporerete un po' di libertà dalla solita routine giornaliera, tranne se riceverete un invito a una serata che si potrebbe rivelare molto divertente nonostante la vostra iniziale ritrosia. In amore vi sentirete dipendenti da un sentimento che sta crescendo. Sagittario. Bellezza e virtù. Oggi ne sarete protagonisti, facendo sfigurare chi vi sta accanto. Per i maschietti, lunga la giornata costruita da impegni interminabili. Per i papà e per i single, fatta di lavoretti da troppo tempo rimandati. Per le femminucce, oggi grandi divertimenti. Arei commerciali non si salveranno e in più, per alcune, ci sarà un incontro che vi lascerà di stucco. Capricorno. Tutti vi faranno apparire un po' freddi e distanti da una situazione non familiare ma lavorativa o sociale, che vi innervosirà un pochino in quanto voi riterrete di avere delle ottime ragioni. In amore una telefonata o un messaggio in più di chi amate non guasterebbe. Acquario. La famiglia sarà il centro dei vostri pensieri. Avrete infatti voglia di circondarvi delle persone care che non vedete da troppo tempo. Prenderete in considerazione l'idea di organizzare una riunione con chi vi sta più a cuore. In amore vi sentirete al centro dei desideri del partner, ma dovrete stare attenti a non dare tutto per scontato. Pesci. L'unione fa la forza, ebbene ricorderete oggi, pensando a quando sia importante lavorare con il gruppo a cui appartenete. In amore dovrete difendervi da un'accusa. Pesci. 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 Pesci.